Ben trovati a tutti gli amici di Meteo Giuliaci da Andrea Raggini. La situazione meteorologica in Europa vede una rimonta dell'alta pressione, una potente alta pressione a partire dalla penisola iberica. Proprio qui, nella giornata di martedì 12 dicembre, si è raggiunto un record storico di caldo per quanto riguarda il mese di dicembre. Pensate che Malaga ha raggiunto l'incredibile valore di più 29.9 gradi, praticamente 30 gradi il 12 dicembre. Questa temperatura è la più alta mai registrata in Spagna nel mese di dicembre, da quando si effettuano le registrazioni meteorologiche, ma ha battuto lo stesso record di Malaga di oltre 5 gradi, perché non era mai arrivata oltre 24.9 gradi nel mese di dicembre. Ma non solo la Spagna. Nella giornata di mercoledì 13 dicembre anche la Sicilia nel messinese ha sfiorato i 30 gradi con valori fino a 29 gradi.